Una partita difficile come pensavo, come immaginavo, contro una squadra forte che in alcuni momenti della gara ci ha messo in difficoltà. Il primo tempo siamo stati un po' frenati per merito anche della Triestina perché chiudeva tutte le linee di passaggio. Le difficoltà che abbiamo trovato, anche se la squadra ha cercato di fare gol, ha cercato la via del gol in più di un'occasione, però non rischiando mai. Poi al secondo tempo siamo partiti anche bene, dopo abbiamo subito il gol. Ci sono stati cinque minuti dopo il gol e abbiamo sofferto dal punto di vista mentale perché poi quando sei costretto a vincere vai sotto di un gol contro una squadra forte è difficile poi recuperarla. Dopo ho deciso anche di cambiare dal punto di vista tattico per cercare di essere ancora più offensivi. Sono contento perché la squadra ha reagito bene, chi è subentrata ha dato un contributo molto importante. Siamo stati molto più propositivi. Sono contento veramente tanto perché è stata una vittoria di cuore, di gruppo e dobbiamo continuare a lavorare così. Qual è stata, secondo lei, la svolta della partita? La svolta è stata nel credere fino alla fine alla vittoria, credere e non mollare fino alla fine. Al di là di tutto quello che si dice nel calcio, sistemi, moduli, quando c'è il cuore, la voglia di non mollare fino alla fine spesso capita che poi le partite le recuperi, le ribalti e quindi sono contento per i ragazzi. Non mi andava di cambiare perché la squadra ha fatto molto bene, non ho cambiato perché negro ancora non sta al 100%, anzi dopo ho voluto rischiarlo perché giocare 90 minuti ancora non ce l'ha nelle gambe e anche a livello di fiato. Ma ero convinto che 30-40 minuti le potesse tranquillamente fare così è stata, ha fatto molto bene. La scelta era dovuta a questa, non avendo difensori centrali pure ma solo negro in questo momento e Monaco ho preferito continuare a giocare a tre che a mio avviso abbiamo fatto bene, non come Verona ma abbiamo trovato di fronte anche una squadra che ci guidava tutti gli spazi. Avremmo anche rischiato qualche infarto pure perché oggi è stata una partita bella, entusiasmante dove ci sono stati momenti di amarezza, di depressione perché dopo il gol sicuramente ci sono stati anche i tifosi da casa noi in campo, i ragazzi, noi in panchina, chi stava in tribuna. Poi siamo passati alla quasi gioia nel gol del pari alla gioia immensa sul 2-1 quindi è stata una partita veramente dura, tirata fino alla fine. Noi facciamo un lavoro dove la tensione, lo stress, l'adrenalina è diverso gli allenatori sono un po' diversi dai calciatori perché i calciatori poi alla fine sfogano in campo la tensione della gara la senti prima della gara durante la gara poi un calciatore riesce a sfogarsi dentro il rettangolo di gioco noi allenatori dobbiamo cercare di essere più lucidi possibile e ragionare nelle scelte leggere la gara, l'attenzione della gara, l'importanza della gara la piazza perché Perugia è una piazza importante dove c'è l'obbligo di provare a vincere quindi ci sono tanti fattori quindi noi siamo sempre soggetti a tensioni molto alte prima, durante e forse dopo la partita un po' meno La dimostrazione è che quest'anno questo campionato è molto equilibrato perché ci sono tante squadre forti perché oltre noi tre che ci stiamo giocando il primo posto abbiamo il Modena, c'è la Triestina, c'è la Feralpi Salò che sono squadre che a bocce ferme sono partite con obiettivi tutti importanti importante significa fare un campionato di alto livello e quindi la dimostrazione è che questo campionato non è facile le difficoltà sono tante perché le squadre sono molto attrezzate forti tutte e quindi rispetto agli altri gironi a mio avviso è molto più equilibrato chi lo vincerà è la squadra che sarà più equilibrata la squadra che non perde la testa la squadra che riesce a stare più tranquilla fino alla fine perché adesso è una partita a scacchi dove in questo momento siamo tre squadre che stiamo lottando per un obiettivo importante ma noi dobbiamo cercare di non pensare agli altri perché a mio avviso è l'errore più grande che possiamo fare è pensare agli altri sappiamo che non dipende solo da quello che facciamo noi perché noi li possiamo vincere tutti magari può anche non bastare però nel resto se pensiamo agli altri facciamo un errore grosso quindi noi dobbiamo pensare adesso e da domani che c'è una partita difficile non sarà facile a Ravenna sarà una partita molto molto difficile perché contro la triestina gli stimoli la partita l'importanza della gara gli stimoli li trovi da solo anche per un allenatore meno parli in queste partite è meglio giocare a Ravenna sarà una partita molto più difficile di questa perché per la squadra perché giochi fuori casa perché loro si giocano una fetta importante per mantenere la categoria e tu devi trovare gli stimoli giusti perché non sarà facile la dedico a mia mamma perché è sempre stata per la nostra famiglia un punto di riferimento come mio papà purtroppo mio papà non c'è più però la dedico a mia mamma perché nella sua vita è stata una donna eccezionale sembra anche scontato ma al giorno d'oggi non è così perché poi i genitori poi ne senti in giro di cose i genitori spesso magari o qualche volta capita che non sono presenti nella vita dei figli mia mamma invece è molto presente è una donna eccezionale è una mamma, una nonna un'amica cioè una persona eccezionale adesso sta qui a Perugia con me quindi la dedico questa vittoria a lei perché se lo merita per tutti i sacrifici che ha fatto e che continua a fare per tutti noi termina così il nostro momento di informazione chi volesse approfondire le news ascoltate può trovarle con tutte le altre news più interessanti del giorno sul nostro network vivicentro.it e nelle nostre edizioni regionali e sportive quindi